vasco rossi non stop light 2019 la confezione box lighting per la prima volta al mondo con la copertina che si illumina premendola nel box dei cd abbiamo due cd e due dvd è un blu ray più booklet del grande vasco vasco rossi non stop light 2019 anche qui la copertina si illumina premendo il tasto push è un'edizione speciale è una addirittura limitata e con 3000 copie e non ci saranno ristampe quindi mi affretterei a comprarlo sono presenti un 45 giri dove c'è da una parte se ti potessi dire e dall'altra la verità più ci sono 4 lp souvenir 180 grammi vi è stata poi molta attenzione al mastering per preservare la massima qualità della registrazione e quindi ragazzi vi consiglio di acquistarlo velocemente prima che finiscono le 3000 copie ciao